Sì, è caldo anche lui. Sì, è la piazzina ora con Fabrizio Di Piazza che transita davanti al banco della giuria. Vediamo anche il capitano della piazzina e sta per arrivare anche lui. Lui è capitano di unicari, arrivano prima i cavalli dei capitani. Lì, ritransita il cavallo della Tarrocco. Questo qua chi è?